La vanità dell'Atletico Gela sul Comiso consente alla formazione di Peppe Misiti di rimanere al terzo posto nel girone D del torneo di promozione ad un solo punto dalla Licata, vittorioso sull'Atletico Caltanissetta. Per la squadra Gela Rossa comunque quello messo a segno ieri pomeriggio davanti al pubblico di casa è il terzo successo di fila in campionato. Una vittoria meritata per Asia e compagni arrivata in rimonta e grazie alla tripletta messa a segno proprio dal capitano Gullador Davide Asia e alle reti di Zarba e San Martino. I Gela Rossi erano sotto di una rete dopo appena sette minuti di gioco. Sono contento della reazione che in un quarto d'ora siamo riusciti a ribaltare e a fare tre gol. Questa è la mia squadra, è pronta a reagire subito e siamo stati anche fortunati perché loro hanno avuto l'opportunità di fare anche il secondo gol. Bravo Francesco Gerbò a evitare il secondo gol e ci godiamo ora questa vittoria, questa settimana di sosta e poi ci prepariamo per Ragusa. Che prospettive si aprono per l'atletico Gela? Noi sempre le nostre prospettive sono quelle della salvezza prima, siamo partiti che non ci davano un centesimo per questa squadra, siamo lì, ci godiamo questo terzo posto, bravi i miei ragazzi che hanno lavorato fino ad oggi bene, si vede in mezzo al campo e poi si vedono i punti fatti. E comunque continuiamo a lavorare così per cercare di arrivare alla fine nel migliore modo possibile. Dopo aver raggiunto i 30 punti al mio minimo della salvezza cercheremo in qualche modo di fare il salto di qualità. Allora parliamo già di salto qualità, parliamo di un atletico Gela che a questo punto possiamo parlare di ambizioni playoff. No, noi, io come Presidente, tutto il mio staff, tutta la società ci crediamo a fare quest'anno un buon campionato come l'abbiamo fatto l'anno scorso. Certamente arriveremo ai primi di dicembre che dall'apertura degli svingoli e ci metteremo nel mercato proprio perché comunque ci vediamo collocati al secondo posto. Quindi noi cercheremo in qualche modo di prendere la prima o magari fare i playoff perché comunque per noi è fondamentale giocarci alla fine alla fine, come abbiamo fatto l'anno scorso e certamente cercare in qualche modo di raggiungere quella che per noi era un sogno che è chiamata eccellenza.